Anche se in misura minore il caro affitti affligge anche i numerosi studenti fuori sede dell'Università d'Annunzio di Chieti-Pescara e non si ferma la protesta partita da Milano che sta interessando diverse città italiane. La mobilitazione contro la crisi abitativa e il caro affitto rende impossibile la vita degli universitari mentre il Governo annuncia lo sblocco di 660 milioni di euro previsti dal 2022 per acquisire nuovi posti letto negli alloggi o nelle residenze per studenti, le istituzioni della formazione superiore la ZU guidata dalla Presidente Isabella Gualtieri e dal Direttore Teresa Mazzarulli annuncia nuovi posti letto parlando di esempio virtuoso a livello nazionale. Con Diego Martelli abbiamo sentito Fiorenzo Foti, studente fuori sede proveniente dalla Calabria iscritto al corso di laurea in logopedia e il Direttore dell'Azienda per il diritto allo studio universitario Mazzarulli. In appartamenti di abitazioni private il solo affitto per una stanza singola si aggira sui 180 euro al mese mentre nelle residenze dell'Azù è di 240 ma sono comprese tutte le utenze che potrebbero essere rimodulate in decremento come annunciato dal Governo e numerosi servizi che vanno dalla guardiania 24 ore su 24 al cambio lenzuola e asciugamani settimanale dall'uso di lavatrice e asciugatrice a gettoni al servizio psicologico gratuito e persino ai corsi di ballo. Qui a Chieti la situazione secondo me è ancora fattibile studiare per un fuorisede. Io pago, sono uno dei pochi fortunati, 180 euro al mese. La media è intorno alle 200 euro. Per una stanza singola? Per una stanza singola, sì, un appartamento condiviso con altri tre ragazzi, quindi in totale siamo in quattro in casa. Quindi ripeto, 180 euro è una cifra che secondo me è ancora fattibile. Ovviamente poi ci sono le eccezioni, si arriva anche a 250 euro al mese per una stanza. E la scelta di questo Ateneo, anche il caro Affitti ha influito? Sicuramente sì. Chieti è una città che mi sono documentato ovviamente prima di iscrivermi qui all'università e effettivamente poteva essere alla mia portata, perché quando si va a studiare fuorisede bisogna fare i conti anche con queste criticità. Quindi sì, ho consultato un po' la media degli affitti, insomma a livello monetario, quindi ho deciso di iscrivermi proprio qui all'Ateneo, che tra l'altro è un Ateneo veramente valido. Quanti posti letto sono attualmente a disposizione degli studenti fuorisede che frequentano l'Università d'Annunzio di Chieti Pescara? 65 alla residenza Benedetto Croce, 92 Campus X, 8 Campus Circuito 71, 87 del Ferrotel di Pescara. Saranno obtivati altri posti letto? Quanti entro quanto tempo? I lavori per la struttura residenziale a Chieti, ex caserma Pierantoni, sono 149 posti. Penso a giorni iniziamo i lavori e dovrebbero concludersi per il 2026. Grazie per la visione!